sono zico vengo da lecce e sono un magicomico adesso vi faccio vedere le carte 1 e 2 da una parte e dall'altra per farvi vedere che sono non sono tutte uguali ma sono diverse rifacciamo 1 e 1 2 ok io adesso faccio scorrere le carte mi fermo e vi faccio vedere questa carta una carta presa a caso dal mazzo vado a chiudere la metto qua dentro allora adesso faccio un taglio un taglio un po più alto di quello che ho fatto prima e vediamo che cosa è successo questo è il taglio questa è la carta che abbiamo scelto prima ed è questa ed è questa sia questa è un 10 di cuori lo andiamo a mettere qua sopra pensiamo qualcosa di leggero il pensiero il primo volare basta un tocco e la carta è arrivata in cima adesso basta uno schiaffo e la carta è arrivata giù ricordate ci si accorge di essere grandi solo quando si dimentica di essere stati bambini e allora ritorniamo un po tutti i bambini le carte sono tutte diverse ma basta un tocco magico e le carte diventano tutte 10 di cuori eccole qua